e che natale sarebbe senza lavandonia natale migliore esattamente ma noi vogliamo rovinarlo ah già ha già spaccaroccia buona aspetta non ho la medaglia c'è la roccia dei puffi come no non è vero niente andiamo ma che cazzo perché sta correndo come un fattore ma no non sta correndo sta levitando ho sentito parlare di te delle tue geste tua geste no delle tue geste le tue geste oh dazi vuoi sfidarmi per poter usare la mossa volo anche fuori dalla lotta vera vuoi volo perché volo la terza non era la volo le cassa non devo andare da sabrina vero ogni volta che c'è un fulmine l'immagine sul mio schermo siede di merda subito dopo tipo too much granelli for me oh 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 che bello wow mi dicono che la difficoltà di questo gioco sia a livello autismo master mapping vai non gli toglierò tipo niente ah no invece l'hai shottato ghost nap please secondo me tipo su yape avrà messo attacco speciale no attacco perché spettro erano attacchi fisici attacco a 21.000 post ma sai che ha 40 in attacco ghost nap o una cosa del genere ah eh ti ricordo che cadavano 46 ok lasciamo stare poi ieri ho letto un articolo di selvaggio rucarelli no dai che parlava male di che parlava male di yugioh dopo vado a guardare tipo che diceva aveva preso in esempio eh gem knight una fusion gem knight no dicendo perché sto andando di qua dicendo eh i vostri figli eh se li imbambiranno esempio vi riporto l'effetto di questa carta cavaliere gemma qualcosa ed è incava l'effetto della carta e poi diceva eh ma io non ci capisco niente voi non so grazie se non ci capisci niente magari perché non sai e perché magari non sai il gioco c'è troppa acqua 7.8 su 10 decisamente eh si team magma leader love you who like to battle si proprio io che ho preso zaffiro signori siamo done e cosa che cazzo è sta cosa allora aspetta 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 un secondo aspetta un secondo torna indietro torna indietro la ci sono è brutta allora davanti hai due tipi eh sono davanti questo qui è il cattivo presente eh tipo power ranger io sono il gran cattivo Mr. Rock tua mamma quello che è col mio fido aiutante che abbiamo chiamato down ma sono io plot twist brandon e mei torre pokemon spiriti malvaggi malvaggi calabria calabria carabinieri malvaggi separiamoci al peggio ok via sono venuta qui da dobbiamo unirle forze alp non credevo che saresti arrivato detto così sembra tipo aiuto no 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 ma ha fatto una frase giusta poco importa Oc si trova in cima non riuscirei mai a raggiungerlo troppi troppi periodi giusti qui gatta ci copa provabile dalla cima della torre Oc libera sarebbe un plot twist decente sterile e allora accanto cadrà sai un po' mi dispiace ma è questa la vita tu non hai mai perso le speranze un po' ti invidio alp buona fortuna un po' giusto ma le medie o non combattono oh Gesù dimmi cof no 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 flash non è flash ma alb cos'è quel cos'è cos'è quel cos'è non dirmi che è il biori da live ti prego no no scagnozzo scagnozzo o alessi aspetta non 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 use a destin comune ora potrei bridare il pokemon da save Cosa diavolo Finalmente ci incontriamo Chi sei? Scagnozzo o Brandon Ciao Coglioni Ora soffrirai Perché? Perché? Perché me è cattivissima Se buono Cosa? Cosa? Scontro fra Titan Titanal Pestra pessima Sì Sono rimasto per sconfiggerti Sono rimasto per sconfiggerti Sono rimasto per sconfiggerti I'm here I'm here in for to help Giusto Ma perché blu non era da un guardare un iclus Ti prego Is Ok Tra l'altro Riuniclus Sembra proprio un Un tumore In fase avanzata Lì mi ha fatto sky uppercut E' al 40 Sky uppercut Eh ma si trova Eh ma questo qui è un po' che monvolante Quindi Sky Sky vola Sky Cielo Sì Ho vissuto una vita molto Intenso Sì Ho cercato e ricercato La libertà A quale prezzo Adesso le amiche Adesso Il pirata Taka Iriacan Anzoni abitanti Il super pokemon è pronto Dopo che ti avrò schiacciato conquistrò la regione 3 ehi giocamia salimolo one shot sterega best sprite ss arco un grigio come minimo 10 per 4 non lo so tetamoto, tetamoto che palle ma quando è che scure gli fai critico tu non lo so nooo che merda diamo un po' di iter iter brrrr non lo so non è molto efficace guai questa roccia acqua no e spettro si ma penso che come secondo tipo abbia anche roccia e barra acqua un po' drago vuoi essere più drago ha una faccia da drago come una faccia da drago no 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 più che altro ha una faccia da droga vuoi dire critica critico il quando non si chi che manda avevo scritto sul gruppo che avevano problemi sulla bandonia vediamo la risposta vuoi sentire in diretta ok esiste dai no no non c'entra un cazzo ah ok comunque amato hai delta la casa meh vai ehi Paco fagli il psichico dai sicuramente funzionerà maledizione ma che cazzo tra l'altro master sprite super 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 wow l'efficacia è stato di lancia fiamme su ieri e lei ciotta nodi scontriati in auto i ragazzi beh ma ma ci sono gli sprite per questo ahahah ahahah viva l'ambientale coraggio imprigionare imprigionare per fare come si chiama no è esclusiva è imparato sul pallombra perché ho fatto l'altro tutto giusto tan 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 piscico si tratta siccola testo staglia sicco dulce per evitare il cosa che due coglioni si è che è evitato non si sa non ha usato niente zerko è uscito bene amnesia però comunque nica 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 perché due coglioni un bel crescendo critico eh usco critico e adesso arriva Mark e ci sbattiamo come sta come è statico come sta darkrai darkrai mello usco extreme speed e la madonna barri barriera barriera vai e epica battaglia finale ma erano non chiedi impossible non so dove trovi tutta quella forza lotti con amore non lotti con odio forse hai ragione tu non siamo nulla in questo piccolo mondo addio non mi dimenticherò mai nooo nooo non morire eeeh cosi ancora cosi però se ne vada cosi fine fine eeeh finito the end eeeh finito the end eeeh finito the end eeeh quindi non dovrò sopportarmi altri episodi signori qui è lo scarso che vi parla grazie mille per aver visto questa serie e spero anche di avervi intrattenuto abbastanza detto questo buon natale e ci vediamo alla prossima hack